Michele Mililli è il responsabile di una neocostituita federazione del sindacato di base. Abbiamo costituito da poco, da circa 15 giorni, l'USB, la federazione del sociale. La federazione del sociale è una nuova scommessa dell'USB a livello nazionale. La federazione si occuperà di tutti quei soggetti disoccupati, precari, che hanno scarsa rappresentanza purtroppo nei sindacati, nella triplice sindacale, ma anche in altri sindacati. A Ragusa crediamo che il problema dei disoccupati e quindi della disoccupazione, ma anche il problema di tantissimi giovani precari, vada affrontato. E soprattutto per un sindacato come il nostro, che ripeto è fuori dalla triplice sindacale, è importante costituire la federazione, è importante riuscire ad unire questi lavoratori, che molto spesso sono disintegrati sia perché precari nei loro posti di lavoro o perché disoccupati. Quindi la nuova scommessa dell'USB è questo, unire le lotte, unire i lavoratori. Attorno a delle piattaforme è chiare e molto spesso purtroppo i sindacati confederali hanno lasciato le piattaforme sindacali annaquandole. Noi invece facciamo delle proposte chiare. Per ultimo, ad esempio, la proposta dell'USB in campo nazionale, tema di trattativa col governo proprio in questi giorni, il salario minimo a 9 euro l'ora per tutti i lavoratori. Queste sono le grandi scommesse che l'USB lancia agli altri sindacati e al mondo del lavoro e anche a Ragusa vorremmo occuparci di queste tematiche.